alimentatore raspberry deceduto fatto un flash ma nulla comprato esattamente due anni fa è durato due anni ed è morto quindi oltre la garanzia smontiamo un po sta cazzata eccolo qua è un piccolo piccolo troiaio di voitila mi preoccupa molto la parte qua questa parte di dietro verifichiamo i condensatori non c'è molto da fare proviamo ad utilizzare un tester di qualità eccellente industriale ora io questo elettrolitico me lo da così e se inverto la polarità ah no l'elettrolitico è questo qual è l'elettrolitico allora l'elettrolitico è questo qua vediamo non mi sembra in corto però vediamo nella scala per uno che azzeriamo per avere la precisione della qualità eccellente industriale di questo tester eh ma non va bene questa scala questo è un tester adatto per usi in miniere e noi in questo momento non siamo ancora in una miniera quindi dobbiamo usare un altro tester proviamo questo che sembra misurare condensatori ma sicuramente non ci arriverà 122 stiamo misurando in circuit questo mi dice mille addirittura si crediamoci questo è un troione vediamo cosa dice il il cazzer il cazzer di misurazione ESR che azzeriamo certo se non si spegnesse sarebbe una buona cosa vediamo il cazzer 0,07 0,50 e questo 4 però questo è ad alta tensione va non so come interpretare questi risultati ma fanno sempre scena vedere gli strumenti utilizzati è qualcosa che fa sempre scena mi piacerebbe usare l'analogico ma non so perché non funzionano gli ORM e molto probabilmente molto probabilmente manca la batteria ora vediamo se è così e ogni volta per riparare qualcosa bisogna sempre prima riparare qualcos'altro per poter riparare quella cosa e per riparare questa cosa sicuramente dovrò riparare qualcos'altro e così via questa è la storia della nostra maledetta esistenza fatta di strumenti che si rompono quando ti servono di cacciaviti che non ficcano in questo cazzo di buchi maledetti di viti che non si svitano infatti qui manca la batteria quindi come cazzo vuoi che funzioni il misuratore di OHM se qui non c'è la batteria l'introvabile batteria da 3 volt lunga così morisse chi ha inventato questo tesser e chi ha usato questo formato morisse vediamo con il Lafayette non mi piace potrebbe essere coerente effettivamente si carica e poi diventa 400 quel cazzo che è è questo anche lui poi al contrario stessa cosa potrebbe essere un comportamento coerente facciamo così io per gioco li smonto lo stesso vediamo se riesco a levare dal cazzo questi condensatori senza bestemmiare troppo che già già mi stanno venendo i nervi ecco già stagno ROHS che non si scioglie ho settato la temperatura a 890 gradi vediamo se riusciamo a togliere questo stagno del cazzo ok e ce l'abbiamo fatta ora puliamo qua che merda questo stagno e io tolgo anche questo ti è e io tolgo ma e io tolgo e io tolgo e io tolgo ok andiamo di pulire voi mi dite ma perché non usi un succhi a stagno perché mi sono rotto il cazzo va bene abbiamo il succhi a stagno e vaffanculo ecco fatto potevo usarlo prima sono un coglione lo so ora questo qua secondo voi è da 1000 microfarad 10 volt ma secondo me nemmeno per il cazzo e questo è da 1000 microfarad 6,3 volt e sono in parallelo giuntati da questo da questo induttore qua quindi insomma sembra anche costruito benino c'è un filtro qui se non gli avessero spruzzato questa merda di di gomma di merda che genera fastidio di vivere ok quindi c'è questo induttore tra un condensatore e l'altro io adesso mi metto uno così al volo e facciamo la prova e vediamo cosa succede ecco ci mettiamo questo con le forbici da elettricista tagliamo i piedini e vediamo se riesco a ficcarceli in qualche modo io lo metterò ne metto uno solo allora negativo di qua vedete il negativo è indicato da questa striscetta nera quindi negativo negativo che non entra ovviamente ah no è entrato con un po' di violenza è positivo eccoli qua vi saldo al volo vediamo se scoppia ma io non credo che sia questo il problema che saldature di merda che ho fatto mamma mia faccio veramente schifo vabbè ok adesso ficcherò la spina così e quindi vedremo cosa succede anzi se trovo una prolunga è meglio vedete ecco la prolunga rigorosamente cinese che funziona quindi ora io questo lo ficco lì così questo lo faccio così e vediamo un po' e non si accende vedete il led è rimasto spento verifichiamo se c'è per caso per sbaglio attenzione uscita ma non possiamo perché giustamente è usb del cacchio quindi il problema non sono i condensatori in uscita il problema sta prima proseguiamo allora potrebbe essere il condensatorino che lo fa oscillare vogliamo provare perché no proviamo e disarticoliamo questo stronzetto qua questi a volte falliscono vedete lo stagno di reoks è così merdoso che si è già autopulito e questo dovrebbe essere un 10 più o meno infatti 10 microfar a 50 volt questo ce l'abbiamo nuovo eccolo qua negativo lì positivo qua brutalmente proprio riparazione ghetto style io glielo ficco lì caghetto più che ghetto ecco qua e qua ok vediamo al volo se torno a oscillare così così come ma neanche per il cazzo ma proprio niente vediamo se io lo giro così forse riesco a fare qualche misura facendomi scoppiare tutto in faccia qui ho un condensatore in isolamento quindi da questo lato è la parte diciamo la parte quella lì vediamo che cosa trovo con il tester di qualità eccellente industriale vediamo cosa misuro mettiamo scala 250 che non si sa mai qualità eccellente industriale qualità eccellente industriale allora i capi di questo non trovo niente proprio la 220 mi arriva la 220 mi arriva vedete e poi da questo lato dovrei averla raddrizzata ah no ma questa è già raddrizzata come è possibile ma certo perché la 220 mi entra qui no ma io qua non ho niente qui ho roba ah no entra allora stiamo calmi entra alternata qui ok e qui esce sempre alternata allora la 220 entra qui e la qualità eccellente industriale mi dice che è 220 all'incirca giusto ok vediamo nella scala 250 cosa mi dice si ho qualità eccellente industriale qui però questo è un diodo questo è un ponte a diodi quindi io di qua dovrei avere se qua ho l'alternata io qua dovrei averla continua infatti non ho nulla ok quindi andiamo in continua adesso qua dovrei avere circa 300 volt raddrizzati infatti ce li ho perché c'è una polarità positivo e negativo che vanno qui vanno questo filtro ok e quindi ho della qualità eccellente industriale ora io qua ho qui ho qualcosa guardate vedete io tocco con la massa e lui da solo sente la corrente la sente qui ho qualcosa non so se questo chip sta funzionando ma qua la qualità eccellente industriale qui non mi convince ha una tensione su questo condensatore ed è ok quello che non ho è l'uscita da questo lato perché io da questo lato devo uscire da qui e da qui e non esci assolutamente un cazzo di niente qui ho qualcosa però ma io ho un'uscita qui attenzione ma allora perché perché tu non vivi tu cuoqui ah ma io ho 5 volt quindi tu stai funzionando ma allora perché non mi accendi il led non mi dite che bruciate il led perché divento scemo ok alimentiamoci qualche cosa sacrificherò questo raspberry bruciandolo quindi adesso io prendo e lo ficco qui solo che non si vede se si accende quindi devo aprirlo e mostrare i led qui ok adesso non fa niente se io premo qua uuu attenzione si è acceso e sta facendo il boot quindi funziona ma il led si è guastato quindi si è guastato qualcosa nell'alimentatore perché lui non funzionava questo ve lo posso assicurare ma si è guastato pure su cazzi i led fantastico beh è acceso io lo spengo brutalmente e lo riaccendo e vedete lui fa il boot fa poco si bloccherà perché l'ho spento brutalmente quindi ho ridotto la sd card a un ammasso di sterco ma lui sta funzionando vediamo che tensione misuro con un tester non di qualità eccellente industriale vediamo la tensione in uscita sposterò questo tester di qualità eccellente industriale lo metterò lì e questo lo mettiamo qui allora che tensione avremo in uscita accendiamo e misuriamo e non misuro un cazzo perché su cazzi di testa non rompi i coglioni della minchia ok 5,18 non so perché qua non misura forse perché io sono un coglione comunque ho 5,18 volt che è ottimo direi il problema è risolto siamo stati siamo stati sviati da questo maledetto led questo led bastardo e infatti il led il led è fottuto ma ditemi voi se uno si deve rompere il cazzo nella vita in questo modo abbiamo recuperato un led il quale come vedete lampeggia e ledda sta leddando ok il led ha leddato e quindi lo possiamo leddare qua ora vediamo se riesco a tanto dovrei capire la polarità quindi per ora glielo appizzo così tanto so già che sarà al contrario sarebbe facile se questo fosse stagno normale qua c'è le saldature come nei video indiani dove fanno vedere come si fanno le cose cioè saldature di merda solo che dovrei lavorare in ciabatte e infatti il led si è acceso vedete quindi è così ok dovrei lavorare in ciabatte cosa io questo si lo taglio questi li piego glieli ficco se ci riesco ok led ficcato sicuramente sarà troppo lungo e io saldo e scommetto che ho sbagliato polarità dovremmo trovare un condensatore giusto riproviamo vediamo se il led led il led led bene abbiamo riparato anche questa minchiata ora dove lo trovo un mille microfarad così piccolo perché mi piacerebbe richiudere questo troiaio intanto questo lo leviamo dal cazzo l'abbiamo usato per fare la prova ecco fatto ripuliamo sì va bene uso questo il su castagno ok ora dobbiamo cercare un mille microfarad che sia non dico piccolo così ma magari possiamo girare in qualche modo e poi sperare che il led esca di qua se non esce lo forzeremo con una violenza inaudita il led ficca ma non so dove mettere e come mettere il condensatore elettrolitico che qua questo è troppo grosso questo sono sicuro che o lui o lui sono guasti uno dei due è guasto ma me ne sbatto e li butto via questo è troppo grosso lo rimetto a parte vediamo cosa trovo in giro trovo dei Wendell marca americana credo ma io li ficco sono usati quindi non so neanche se funzionano forse ci entrano per un pelo se non ci entrano ce li farò entrare a martellate quindi io li ficco tutti e due e vediamo che succede ma questo qua non ci entrerà ma io ce lo faccio entrare di forza come vedete con la forza di cento braccia ecco io gli metto questi due vaffanculo non li provo nemmeno sono sono condensatori usati ma io me ne sbatto la riparazione deve essere brutale su questi oggetti brutale più si è brutali e meglio è ecco questa è roba che va riparata con una brutalità assoluta ok sono sono contento di questa brutalità ora trimmiamo ecco fatto lo proviamo ancora ma si dai e lui si è acceso perfetto la polarità non l'ho invertita quindi lui funziona adesso se riesco a chiuderlo ho vinto ho vinto ma io so già ah guarda ci entra fantastico che culo che culo che ho avuto si si vediamo se riesco il led il led ovviamente è messo storto devo abbassarlo e qua adesso farò su e giù con questi cazzi i led finché non si romperà e dovrò di nuovo sostituirlo lo so già ah no guardate ce l'ho fatta ho vinto ho vinto ho conseguito una enorme vittoria ho riparato un oggetto che solitamente è un macello perché troppo delicato ho vinto ho vinto si ci alimento subito da sverri si guardate ho vinto questo è spaccato ma me ne sto fottendo gli metto un po' di colle e vaffanculo perché questo è spaccato ma per quale cazzo di motivo questo è spaccato che prima chiudeva benissimo il cazzo di motivo ecco ora chiude bene bastardo maledetto bastardo 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 ok ficco alimenta immediatamente i raspberry senza passare dal via questo cazzo connettore e voilà led e alimentazione vittoria vittoria l'acqua 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 Grazie a tutti.